Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento col meteo di TV6I. Una serie di perturbazioni atlantiche che sono in avvicinamento al Mediterraneo saranno protagoniste nei prossimi giorni e con buona probabilità per quasi tutta la seconda metà di novembre. Insomma, l'autunno tornerà a ruggire nel Mediterraneo come praticamente non ha mai fatto in questa prima parte di stagione. Per quanto riguarda questo martedì, una giornata complessivamente ricca di nubi su tutto l'Abruzzo in quanto si avvicinano a nuova perturbazione che però per il momento porterà delle piogge e delle equazioni solo al nord e sull'alto terreno al centro, quindi anche in Abruzzo avremo un aumento delle nubi però ancora nubi meglio alte, prive di piogge significative, più qualche piovigione ridosso dei monti nelle aree più interne. Le temperature stazionari, un lieve aumento con massime che usciranno tra i 16 e i 18-19 gradi faranno molto più freddo di notte e all'alba con le minime anche al di sotto dei 10 gradi nei settori interni. Con questo concluso, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni Realizziamo i tuoi sogni Realizziamo i tuoi sogni